Buongiorno a tutti, ben ritrovati oggi venerdì 23 aprile. Io sempre con gli occhiali, qualcuno mi ha scritto sui social, ma ti abbiamo visto, ti vediamo con gli occhiali sfumati come Franco Califano, Buonanima o Flavio Briatore, purtroppo il calazio che mi perseguita da tre mesi non accenna a volermi lasciare, si è affezionato a me e quindi prima o poi dovrò fare un piccolo intervento per rimuoverlo. Nel frattempo per non offrirvi di me un'immagine peggiore di quella che già è così con gli occhiali, li tengo. Uno studio pubblicato sulla rivista Science, di solito quando si citano le riviste scientifiche straniere, si aggiunge sempre di default autorevole, quindi l'autorevole rivista Science la settimana scorsa, questo studio ha scoperto che ogni anno più di mille tonnellate di minuscole particelle di plastica, cioè l'equivalente di oltre 120 milioni di bottiglie, cadono sulla terra insieme alla pioggia. Le particelle sono microparticelle, non si riescono a vedere neanche ad occhio nudo, vengono quindi sospinte dal vento, leggerissime rimangono sospese in aria, possono viaggiare e spostarsi per centinaia, migliaia di chilometri intorno al globo e questo allarme dovrebbe preoccuparci perché queste microplastiche sono prodotte per una serie di oggetti, di cose che siamo abituati ad usare noi tutti i giorni, dentifrici, detergenti, cosmetici, vernici, detergenti. Pensate che in questo studio si dice che dall'usura dei pneumatici o dei tessuti sintetici, un lavaggio in lavatrice produce 700 mila fibre di microplastiche, quindi ogni volta che noi usiamo la lavatrice stiamo producendo inquinamento. Poi chi ha la mia età, 60 anni compiuti, si ricorda di quando c'è stato in Europa l'allarme, il terrore per quello che è successo a Chernobyl o Chernobyl. Allarme che si è riprodotto, ma siccome non era in Europa, era dall'altra parte del mondo, ci ha allarmato fino a un certo punto, perché poi gli allarmi valgono in condizione di prossimità. Tanto più è vicino una cosa che ci può riguardare ed è ovvio, tanto più grande sarà la nostra preoccupazione. Se l'evento catastrofico avviene dall'altra parte del mondo, la cosa ci inquieta brevemente, ci dispiace, ma poi sta dall'altra parte del pianeta. Nel 2011 tsunami in Giappone, viene travolta anche la centrale di Fukushima, tre reattori vengono spenti perché il nocciolo si fonde, adesso poi l'ospite di oggi ci spiegherà meglio, ma dall'epoca si è posto il problema che siccome le macerie delle centrali andavano raffreddate, che fine faceva l'acqua con cui venivano raffreddate? L'acqua con cui vengono raffreddate viene riciclata, poi viene depurata, tranne una componente che rimane e nel frattempo l'acqua in più, perché fra quella che viene fatta circolare e quella che deriva dal sottosuolo, crea un surplus, viene stoccata in enormi contenitori di acciaio, oltre mille al momento, bene, quest'acqua adesso deve essere riversata nell'oceano, quindi allarme planetario sui social, dove gli allarmi durano in genere 48 ore, hanno la durata del latte fresco aperto, apri la bottiglia di latte fresco aperto, dopo due giorni è finito, inacidisce, quindi passi a una nuova bottiglia, così sui social, allarme, il Giappone annuncia oggi che quest'acqua radioattiva finirà nell'oceano Pacifico, dopodiché uno va a fare delle verifiche, io l'avevo già fatta in passato, perché questa notizia purtroppo non è nuova, e come dicevano i vecchi maestri del giornalismo, nessuna notizia è più inedita di quella già edita, si scopre che è una tempesta in un bicchier d'acqua, per parlare di questo, non solo di questo, poi anche della conquista dello spazio, abbiamo un ospite con noi, che è Marco Casolino, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito, è un piacere essere qui con voi sulle fonti. Grazie, che io ho scoperto quando già all'epoca del primo allarme, quindi riversare acqua radioattiva nell'oceano, avevo trovato che tra gli interpellati c'era Casolino, il quale raccontava e spiegava alcune cose. Intanto Casolino, facciamo le cose per bene, lei si presenti da solo, lei chi è e che cosa fa normalmente nella vita? Allora, io sono ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e nel fuori onda si diceva sempre meglio che lavorare, costruisco apparati per lo spazio, cioè abbiamo fatto vari telescopi o su satelliti o sulla stazione spaziale, il più recente misura la radiazione cosmica a bordo della stazione spaziale internazionale, l'ha portato su Luca Parmitano nel 2019 e ancora funzionante, l'abbiamo acceso l'altro ieri. Però radiazione spaziale poi vuol dire anche strumentazione, quindi anche per radiazione terrestre, collaboro con i giapponesi da sempre e quindi quando poi c'è stato l'incidente di Fukushima, a parte sono andato lì la settimana dopo l'incidente, a parte l'equipaggio l'unico italiano sul volo all'Italia, essenzialmente abbiamo anche sviluppato una serie di rivelatori adattati da quelli spaziali per misurare la radiazione del Cib e quindi ho seguito l'incidente di Fukushima, non da professionista però da persona informata sui fatti, se uno volesse dirlo in termini pseudopolizieschi. Beh, intanto già il fatto che uno è andato di persona, tanto avete sentito Fukushima, non Fukushima come ho detto io sbagliando, a Fukushima, il fatto che uno c'è andato, poi sì per misurare il livello di radiazioni nel cibo e negli alimenti, ma intanto anche per verificare Devisu che cosa era successo, io ho letto appunto il problema, le macerie dei tre reattori il cui nocciolo si è fuso, corretto? Esatto, esatto. Allora lì c'è stato, c'è da dire, le esplosioni che sono state nel 2011 sono di tipo chimico, era scoppiato l'idrogeno che è esplosivo, che era stato separato proprio a seguito della fusione dei noccioli, dei tre nuclei e quindi hanno distrutto l'edificio, ma non come a Chernobyl, non hanno danneggiato il sarcofago, il guscio esterno in cibo intermato, quindi non c'è stata una fuoriuscita del nocciolo del reattore, ma di materiale radioattivo, che comunque è una grossa fuoriuscita, ma insomma sono due incidenti gravi, ma uno molto più grave, quello russo, ucraino, e invece meno grave quello giapponese. Però ha riversato una grande quantità di radiazione e poi lì per lì non si capiva quanto fosse, eccetera, eccetera. Lì l'eroe, proprio come l'eroe dei film, mai celebrato abbastanza, fu Masao Yoshida, che era il direttore della centrale, che contrariamente agli ordini della TECO, poi si mise a raffreddarli con acqua di mare e in qualche maniera riuscì a salvare la situazione e impedire dei danni molto peggiori. Però ovviamente c'è stata la perdita, ci sono stati anche dei morti. Ecco qui, come diceva lei, la stampa cerca il morto da radiazione o comunque cerca la notizia, morti da radiazione zero, però morti indiretti, questa è una stima del governo, un migliaio, assicurato delle evacuazioni, suicidi dopo, eccetera, eccetera. Quindi il disastro c'è stato. Appunto noi siamo stati lì varie volte e effettivamente si misura l'incremento di radiazione. Poi hanno bonificato, hanno pulito, hanno tolto il suolo radioattivo e così via, però sempre incrementi non pericolosi. Cioè a meno che uno non va proprio alla centrale, vicino ai nuclei, la quantità di radiazione non è tale da costituire un rischio per chi va lì. Può esserlo per chi vive nelle regioni molto vicine, infatti ancora adesso ci sono degli sfollati. Però insomma, purtroppo quando uno dice radioattivo la gente già si spaventa e pensa, vabbè, col Giappone, film di Godzilla, le bombe nucleari e così via, ma in generale siamo tutti radioattivi. Insomma questo poi è il light motive di quello che si è cercato di dire nel corso degli anni, che è noto, cioè anche il nostro corpo umano ha carbonio 14 che è radioattivo, il potassio 40, delle banane che è radioattivo e così via. Tutto sta, e lei citava le plastiche all'inizio, a capire in che quantità e se poi il rapporto danno o beneficio è a favore o a sfavore. La plastica in giro è sicuramente pericolosa, però quanto rispetto al fatto del beneficio che uno ne può trarre. è lo stesso con la radiazione. Queste quantità, e adesso veniamo al trizio, non sono pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Un attimo, un attimo. Allora, importante questo passaggio. È ovvio che è comprensibile, umani, troppo umani, senza citare il filosofo, che uno si impaurisca perché alla parola radiazioni, radioattivo, vede il fungo atomico, vede Cernobil o Cernobil e pensa che nel momento in cui c'è un allarme bisogna intervenire tempestivamente, sollevare le barricate, chiudersi in casa in un bunker. Dopodiché uno deve anche dire, appunto, io ho parlato delle microplastiche, perché poi uno non ci pensa mai, no? Ma quando uno deve cambiare le gomme della macchina, come si dice, vado a rifare le gomme, ma perché vai a rifare le gomme della macchina? Perché si sono consumate. E quindi il battistrada, da qualche parte, se si sono consumate, i copertoni, come, dove, dove sono finiti, nell'aria che respiriamo. Tant'è vero che oggi sul quotidiano della stampa di Torino viene pubblicato un estratto di uno studio che ha fatto le classifiche delle città più inquinate al mondo, che sono tutte in Asia le prime, in India e in Asia in generale, dove esistono centrali, alcune delle quali alimentate, mi corregga se sbaglio, alimentate ancora con il carbon fossile, quindi se non è quello, è il petrolio, da qualche parte questa energia va prodotta, poi tutti a dire facciamoci le auto ibride che inquinano meno, sì, ma vanno a energia elettrica che deve essere prodotta. E come la produci? Col gas, col petrolio, con l'energia nucleare? Non esistono pasti gratis, quindi se noi vogliamo mantenere i nostri standard e non rinunciare ad esempio a guidare la macchina, dobbiamo pensare che tutto quello che noi facciamo si scarica da qualche parte. Punto a capo. Lei ha citato una parola trizio. Di cosa stiamo parlando? Il trizio è un isotopo dell'idrogeno, ossia è come l'idrogeno, quindi sta nell'acqua. Il problema è che non si riesce a separare proprio perché fa parte dell'acqua. L'acqua è H2O, cioè due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Il trizio è un protone, quindi un idrogeno, però ha anche con sé due neutroni, cioè due particelle neutre. Quindi le caratteristiche chimiche sono identiche a quelle dell'idrogeno, però quelle nucleari sono differenti, essendo questo conglobato di tre nuclei non riesce a stare insieme, appunto decade in 12 anni, si dimezza, ed è radioattivo, ossia emette elettroni essenzialmente e perde un neutrone, quindi tende a diventare più leggero. Chi ricorda i vecchi film, cito sempre quelli della Seconda Guerra Mondiale in cui si pensava che i tedeschi fossero avanti nella produzione delle armi nucleari, c'era quella che chiamavano l'acqua pesante, in quel caso era deuterio, cioè un protone e un neutrone, e appunto facevano queste missioni per andare a distruggere gli impianti di acqua pesante. Questo trizio è acqua ancora più pesante, però è acqua, quindi poi se la bevi la elimini come l'acqua, non rimane nel corpo, quindi non è una cosa che poi si accumula. Però decade lentamente, e quindi queste grandi quantità sono di materiali radioattivi e quindi vanno trattate secondo le norme vigenti, sia a livello nazionale giapponese che internazionale. Questo va ribadito, ovviamente, non è che si può fare come nulla, forse buttarla nello scarico come gli altri inquinanti, appunto. Allora, traduco in maniera grossolana, quindi sarò scusato dal mio ospite, traduco in maniera grossolana. Quest'acqua che viene usata a Fukushima va in circolo, se ne produce un surplus, quel surplus viene stoccato, viene messo dentro a questi contenitori. Quell'acqua lì è depurata dagli elementi radioattivi più pericolosi, cioè, correggo sempre se sbaglio, il cesio, lo stronzio, cioè tutto, rimane il trizio. Ma il trizio è una componente che, ahimè, mi duole dirvi, è anche nei rubinetti delle nostre città, cioè l'acqua che noi usiamo, che poi depuriamo negli impianti, nelle centrali di depurazione dell'acqua, perché è acqua che si ricicla, contiene una piccola parte, perché ha un livello di pericolosità basso, anche se poi permane un pochino di più nel tempo, ma è presente nella nostra vita. Quindi, lanciare l'allarme sul fatto che i giapponesi riverseranno questo 1.250.000 tonnellate d'acqua nell'Oceano Pacifico, qual è la proporzione? Cioè, versando tutta quest'acqua stoccata dai giapponesi a Fukushima con il trizio nell'Oceano Pacifico, di quanto si innalza il livello di radioattività dell'Oceano Pacifico? Perché già c'è qualcosa che è radioattivo anche nell'Oceano Pacifico. Esatto, più di qualcosa. Cioè, il conto è molto semplice, proprio per chi è interessato, possiamo metterlo nelle note o sta su un articolo su Scientificas, che è una cosa di divulgazione, un podcast che facciamo noi. È una parte su 6 milioni. Cioè, è come se io a lei le dico, guarda, io le do un euro, e tu mi dici, sì, ma grazie, però sai, io ho 6 milioni di euro, mi fa piacere, ma non è che mi cambia la vita. Il rapporto, appunto, l'Oceano Pacifico è immenso, contiene il 50% delle acque del globo, perché poi c'è la Fossa delle Marianne, che è più profonda di tutto l'Everest e così via. Ovviamente c'è l'acqua che è mille volte più densa dell'aria. E quindi, quando uno va a fare il conto, contiene anche tutta una sete di materiali naturalmente radioattivi, ossia che già presenti nell'ambiente, appunto il carbonio 14, quello per le datazioni archeologiche, il potassio 40, che appunto è un isotopo radioattivo che si trova nelle banane, e quindi anche la banana ha 125 decadimenti per chilogrammo. Quindi se uno fa il conto, quanta acqua c'è, quanta è disciolta, questi sono numeri che non è che vengono dal governo, da chissà chi, sono numeri che si trovano normalmente e si fa la moltiplicazione. Viene appunto fuori che tutto il trizio che verrebbe disciolto ammonta una parte su 6 milioni in tutto il Pacifico. Ovviamente va disciolto, è tutta questione di concentrazione, non è che la puoi buttare istantaneamente tutta nello stesso punto, deve essere diluita con acqua nutriziata, a quantità appunto consone con le norme, a livelli più o meno di quella dell'acqua di Rubunit, appunto, perché poi è tutta questione di densità, di quantità di radiazione. Quindi se è diluita, non dovrà comportare nessun danno per l'ambiente, per l'uomo e così via. Certo però l'informazione, e questo è compito vostro, anche del governo giapponese, deve essere data esattamente, perché altrimenti la gente ha più che il diritto poi di preoccuparsi, di dire sì, ma che me succede? Questo è sacrosanto. Sì, sì, va ricordato anche qui, correttamente, come è stato appena fatto, che appunto si tratta di non riversare contemporaneamente solo in un metro quadrato tutta quell'acqua. in realtà il piano di smaltimento, a meno che io non abbia capito male, riguarda decenni, cioè si comincerà, poi possiamo anche discutere del fatto di parlare di queste cose alla vigilia delle Olimpiadi in Giappone, non è una bellissima mossa propagandistica, diciamo così. In più adesso c'è anche il problema del Covid, di cui leggevo stamattina, che in Giappone c'è l'allarme perché è una variante di ritorno, perché adesso abbiamo il problema delle varianti e delle varianti di ritorno, per cui sembra un terribile romanzo distopico, oggi si dice, un futuro non utopico, distopico, che ci terrorizza, il virus del Covid non finirà mai. Le varianti di ritorno, quanti paesi ci sono al mondo, la variante brasiliana, la variante inglese, mi fermo, giustamente, dicevamo, certo, in Giappone aprire un dibattito su una cosa che poi non comincerà subito il riversamento, comincerà fra un paio d'anni e durerà almeno un paio di decenni, se non tre. Quindi, signori, per tranquillizzare, io sono ipocondriaco, paura delle malattie, ho una certa età, oppure paura di morire, ma non mi metto lo scafandro e mi chiudo in un bunker, perché il mondo intorno a me è inquinato, è inquinato perché intanto lo inquiniamo noi, ed è inquinato perché noi, ma qualcuno si pone mai, lo dice anche qui, ce lo siamo raccontati e detti, ma qualcuno si preoccupa del fatto che dobbiamo stoccare tutti i telefonini che cambiamo a raffica, tutti i tablet, tutti i pc, tutti i mac, tutti i computer, dove finiscono, tutte le parti che sono assemblate, e noi continuiamo a andare dietro alle campagne e a cambiare con modelli a raffica, tant'è vero che se incontriamo uno che ha un modello analogico, un telefonino, diciamo, ah, c'hai questo reperto archeologico, perché è una corsa, ma dove vengono, come vengono trattati quei rifiuti, o sbaglio? Sì, il problema del trattamento dei rifiuti è un problema immenso, però appunto il danno e la maggior parte dei morti appunto viene da danni chimici, appunto la terra dei fuochi, sversamenti, tutta la maggior parte del junk, dell'immondezza informatica viene buttata in Africa e così via. Lo stesso è lo smaltimento dei rifiuti radiattivi, ovviamente vanno fatti a norme, anche lì ci sono stati vari esempi di morti o feriti, o insomma esposti a radiazioni, perché quei rifiuti non sono stati trattati correttamente, però in generale nel mondo, così come la quantità di morti da tumore viene soprattutto dall'inquinamento chimico, lo stesso è per i rifiuti, anche perché poi c'è questa sottigliezza che il contatore Geiger, cioè quello che fa tic 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 tic, che è nei film appunto di Godzilla e così via, di quelli distopici post nucleari, ogni tic è un decadimento di un singolo atomo radioattivo, quindi io riesco a misurare una cosa microscopica con un oggetto che costa 50 euro, si trovano su Amazon queste cifre, anche in Giappone, e quindi poi chiunque può misurare la radiazione, questa è la cosa che poi è stata quella che ha salvato, tra virgolette, ha messo a tacere la discussione in Giappone, perché tutti si sono comprati questi contatori Geiger e misuravano la radiazione, non fidandosi del governo, per conto loro, quindi con 50 euro, se uno lo misura a Roma, per esempio, c'è quattro volte radiazione che c'è a Tokyo, perché è sul tufo, che è un materiale radioattivo, perché è vulcanico, il marmo è anche più radioattivo, e quindi tu con un oggetto molto semplice riesci a misurare la singola particella elementare, pensare se fosse possibile, ma sono energie, contesti completamente differenti, farlo col virus del Covid che è molto più grande, a quel punto avremmo risolto il problema, altro che variante di ritorno, in un attimo, perché in questa stanza ci stanno un milione di particelle, un miliardo, qui, qui e qui, aspiri e diminuito, e purtroppo non si può fare perché la fisica è differente, ma nella radiazione, e questo poi uno si spaventa, c'ha paura, ed è tutto correttissimo, perché appunto pensa alle armi nucleari, però con strumenti relativamente semplici, è possibile rendersi conto di persone, allora lì viene a cadere il non mi fido, il governo non ce lo dicono, punto esclamativo, uno punto esclamativo, questo secondo me è il punto fondamentale, che poi uno si spaventa, ma poi fai la misura e vedilo per conto tuo, io sono stato anche con alcuni suoi colleghi a Fukushima, scettici contro il nucleare, amici, però è da morì che dice, eccolo qua, questo è il gag, misuratelo da solo e vedi, trai le conclusioni di persone, lo stesso era per la terra radioattiva, lo stesso sarà per quest'acqua, cioè uno poi dirà, va bene, allora mettiamoci tutte le associazioni antinucleari, eccetera, eccetera, che però lo devono fare con approccio scientifico, misuratelo e veditelo per conto vostro. Ecco, adesso tutti, io, siccome ipocondria, ho comprato il saturimetro per misurare il livello di ossidio, adesso tutti a comprare i rilevatori di radioattività, 50 Euro e potete così rilevare qual è lo stato, lo dico ridendo, sì, sì, ma poi, guardi, Casolino, il problema del che cosa c'è dietro, il mio primo maestro di giornalismo, Claudio Rinaldi, che è scomparso, quando mi prese a lavorare a Panorama a metà degli anni Ottanta, che era insieme all'Espresso, i due grandi news magazine all'epoca, mi disse, ti do solo una dritta professionale, non devi mai scrivere che cosa c'è dietro in un tuo articolo, perché ricordati che dietro c'è soltanto il buco del cubo. Allora, questa fu l'unica, diciamo così, lezione professionale, mai, però invece tutti, cosa c'è dietro, cosa ci nascondono, che cosa non ci vogliono raccontare, il complotto cosmico, la massoneria internazionale, il Bildelberg, poi abbiamo visto i cultori di queste teorie, soprattutto il Movimento 5 Stelle, che fine sta facendo, l'uno vale uno, ma lasciamo vedere, non voglio parlare di politica, piuttosto invece con Casolino, che cos'è Baikonur? Baikonur è uno dei posti più belli della Terra, è una città in Kazakistan, dove praticamente si è aperta, come disse Koroliov, la porta delle stelle, Koroliov è quello che fece, portò lo Sputnik nello spazio, Gagarin e fece il programma spaziale sovietico, partendo dagli sviluppi dei nazisti nella seconda guerra mondiale, e quindi è un'area, grande quanto il Lazio, cioè non uno pensa alla base spaziale, ma è un'area immensa, con città abbandonate, cinque aeroporti, poi c'è la città dove la gente vive, che però si chiamava Turadam, si chiamava Baikonur, un altro posto a 300 chilometri, messo con un nome diverso, proprio letteralmente per confondere il nemico degli Stati Uniti in epoca appunto di guerra fredda, e da lì sono partite migliaia e migliaia di razzi per lo spazio, da lì partivano e partono ancora gli astronauti per la stazione spaziale, appunto il nostro Luca Parmitano, Paolo Nespoli, Samantha Cristoforetti, sono tutti partiti con le Sayuts, che sono le capsule sviluppate da questo corio, negli anni 70, mutatesi ma poco, e quindi ancora lì si fa la storia, insomma. Noi ci siamo stati varie volte, appunto perché abbiamo costruito vari strumenti, perché andando verso lo spazio la radiazione paradossalmente aumenta, questa fu una scoperta del 1910 di Victor Hess, anche se uno prende il Gagher di prima e lo porta in aereo, mentre l'aerodecolla, vedi che ogni metro che fa la radiazione aumenta perché viene dallo spazio, perché anche lo spazio è radioattivo, il sole emette quantità di materiale radioattivo, tra l'altro è anche un problema per andare su Marte, perché uno espone gli astronauti a dosi di radiazione non trascurabili e quindi ogni passo che fai, appunto sembra un posto abbandonato, perché nel deserto, però c'è un parcheggio che non gli daresti 5 lire, il russo dice vedi lì, vedi quel segno bianco lì, e lì stava Gagarin quando ha salutato Korolev prima di partire. Poi fai un altro 20 metri, vedi quei garage lì, beh hai fatto quei pezzi rimasti del razzo che doveva andare sulla Luna e poi hanno vinto ovviamente gli americani e quindi è un posto incredibile, c'è lo shuttle russo, il Buran che fece un solo volo, appunto ci sono rampe di lancio, questa di Gagarin che ha fatto 500 lanci, è un posto impressionante e appunto è quel più vicino che uno può andare, se non sei l'astronauta, ma lì sono persone eccezionali, a sfiorare lo spazio, appunto la porta delle stelle che diceva Korolev. Intanto è bellissimo vedere la passione con cui Casolino ci racconta, di una cosa che evidentemente è il suo lavoro, però appunto parlare di un posto, lui ha citato lo Sputnik, primo satellite andare in orbita, sovietico, poi dentro ci misero una cagnetta che si chiamava Laika, e gli americani terrorizzati che i comunisti mandassero in orbi, poi nel 1961 Gagarin, 60 anni, il primo uomo nello spazio, il cosmonauta, un volo che durò 108 minuti, però intanto gli americani guardavano preoccupati, i comunisti che arrivano dallo spazio, altro che film di fantascienza, e poi via via la conquista dello spazio, lo sbarco sulla luna nel 69, la gara vinta dagli americani, adesso siamo su Marte, però vedete Casolino, la passione, che bambino è stato Casolino? Cioè lei da bambino sognava le astronavi, aveva paura dei marziani, sperava di fare lei l'astronauta per andare sulla luna, come nasce? Ma pure adesso, mica solo da bambino, è chiaro che la passione è quella, ovviamente l'astronauta deve essere una persona eccezionale dal punto di vista fisico, psichico, eccetera, eccetera, quindi la seconda cosa migliore è quella di costruire strumenti e mandarli nello spazio, quindi poi c'è il collegamento con l'astronauta, rimandi dati, costruiti, tra l'altro è tutto fatto in maniera, infatti quando questa cosa del Covid finirà la vorrei invitare nei laboratori a Tor Vergata, perché è tutto fatto con le nostre mani, tra l'altro, norme spaziali, eccetera, eccetera, ma sono cose che costruiamo di persona, con pezzi comprati, ma insomma, e poi lo mandi su e poi speri che vada tutto bene, perché poi per esempio quando lanciammo noi questo strumento nel 2019 era su un cargo e non si attaccò, quindi passavamo una settimana con l'astronave, la capsula che era vicino alla stazione spaziale, ma che doveva fare vari tentativi per attraccare, poi si attracca e poi aspetti due mesi che te lo accendono, perché c'è tutta una serie di priorità e lì dici boh, speriamo che si accenda perché tu puoi fare tutto perfettamente ma poi un filo che si stacca e lo spazio è così, non funziona niente, poi funziona tutto e cominci quindi a prendere dati e a fare la fisica, quella poi allora è la parte più divertente perché veramente tocchi con mano lo spazio, la radiazione, i fulmini, vediamo le meteore, sono vari, perché è un telescopio che guarda la Terra, quindi sono vari obiettivi scientifici, per cui sì, a me piace appunto come dicevamo prima è sempre meglio che lavorare ovviamente. Chiudo dicendo, vedete, bisogna sempre guardare se possibile al progresso con occhi fiduciosi e ottimistici, una volta si era progressisti se si guardava avanti, adesso siamo tutti conservatori perché abbiamo terrore e paura di quello che può succedere nello spazio, che può arrivare dallo spazio e anche di quello che può capitare sulla Terra. Dovremmo imparare a convivere con il virus o i virus, dovremmo chiederci come i virus si sono sviluppati, si potrebbero sviluppare in base anche a come noi trattiamo il pianeta e guardare il pianeta dall'esterno non è inutile perché può servirci a mettere a fuoco ancora meglio i problemi, le cause, i rimedi, le soluzioni, ricordandovi appunto però di non fasciarsi la testa in maniera perché una quantità di radiazioni, anche io e Casolino in questo momento davanti al computer stiamo assorbendo una piccola dose di radiazioni, quando guardiamo la televisione, quando facciamo le radiografie, quando vogliamo in aereo, cioè ci sono, quindi sappiate che stanno dappertutto l'importante in una quantità che il nostro fisico che si è adattato e che si adatta ogni giorno possa sostenere. Casolino ci risentiremo, intanto complimenti perché ha confermato in video di essere efficace sul piano della comunicazione perché come tutti gli studiosi poi dicono ma chissà se poi nel momento in cui parlo delle cose mie efficacissimo, ci rivedremo, ci risentiremo, buon weekend a Casolino, buon weekend a tutti quelli che ci stanno guardando, continuate però a guardare lefonti.tv H24, noi ci ritroviamo lunedì con un chirurgo estetico che è un chirurgo estetico un po' particolare, non vi anticipo altro. Buon weekend a lunedì, ciao. ciao. Grazie a tutti